Ti aspetto oggi pomeriggio con grande entusiasmo, con un sorriso proprio da stregato a 360 gradi per ricordare la persona che a me più ha dato dal punto di vista scientifico, è stato il primo medico di casa e sicuramente sull'altro chi ci ha conosciuti sa che veramente eravamo consentiti questa parolaccia a mio amore che qua mi scriverà perché si raccomanda sempre che non dica parolaccia perché il mio fratello veramente era un culo e camicia. Grazie. Grazie.